Alla fine ha prevalso il buonsenso, o meglio l'obiettivo finale, cioè tentare di battere il centrodestra alle regionali di marzo. Ma quella odierna è stata ancora una volta giornata di tensione fra i due schieramenti del centrosinistra, uno che fa capo a Nichi Vendola e l'altro a Francesco Boccia, a far discutere aspramente la definizione delle regole per le primarie di domenica prossima. Da un lato Boccia che voleva nome e simbolo del partito di riferimento dei due candidati, e cioè Boccia col PD e Vendola con Sinistra Ecologia e Libertà. Dall'altro il governatore uscente che invece voleva sulla scheda soltanto i nomi dei due candidati. Alla fine ha prevalso questa linea anche perché la minaccia era pesante, far saltare le primarie. C'è un pieno accordo, ci sarà una scheda soltanto con due nomi? Quindi come volevate voi? Com'è il buonsenso consiglia di fare? Intanto è quasi certo che si voterà non in sezioni di partito ma in sedi neutre. Nei comuni dove c'è un solo seggio basterà presentarsi muniti di carta di identità. Nei centri dove ci sono più seggi invece bisognerà presentare il certificato elettorale nel rione in cui si vota di solito per evitare che qualcuno possa presentarsi al seggio più volte.